Hai la battuta? Ciao ragazzi scusa Ma che sono? Non lo so Ma che sono? Devo prendere la pastigna Ah ciao Celso Ciao Allora qua ho quella per i dolori Qua quella della pressione Beh questa la prendo se sbaglio il gioco Ah ok Eh guarda ne ho un paio In più ne vogliono anche quella della pressione No le ho già le mie Ma hai notato che all'interno Dalla mia scottoletta per le pastigne C'è anche un cartoncino bianco Si ma ho notato anche perché sei in pigiama Eh beh per andare a letto Io metto il pigiama no la camicia Ok Ah comunque hai notato che c'è un cartoncino bianco Si Perché questa è una rudimentare macchina fotografica Ma dai E questa infatti è una fotografia che non è ne ancora stata scattata Ah ok Penso Ma prima abbiamo bisogno di un soggetto un attimo che anche Se non faccio fatica Meglio Se mi fai il verso Cioè li metti i biocchieri perché ce li ho io No no perché sennò vedo tutto Ah se non vedo niente Si è tutto fuscato No capito Scorro le carte Celso E quando vuoi mi dici stop Va bene Così appunto per selezionare un soggetto Si Stop Qui Si La guardi Non è un problema se la guardo anch'io Si ok Quattro di fiori Si La appoggio qui un attimo Perché come dicevo questa è una fotografia che non è ne ancora stata sviluppata Ed essendo appunto una macchina fotografica primitiva Si Per svilupparla ci sarà bisogno di una dark room Qua di camera oscura non mi sembra ci sia tanto Eh possiamo spegnere le luci scusami Ah puoi fare questa rudimentale camera oscura Ah camera oscura Ma prima bisogna fotografarlo il soggetto Quindi guarda qui com'è un trapiede Lascio a te Ah si prima di fotografare un pennarello E apponi le tue iniziali sul dorso del cartoncino Questo qui Questo quello lì si si Ok Perfetto Grazie Ora Chiudi Ma non senza farla schioccare Perfetto Prendo il soggetto Lo dispongo Così che si veda Si Prendi l'apparecchio Si E orienta Vedi che qui c'è un cerchietto Questo è l'obiettio Orienta verso Lo devo girare? Ah così Lo sollevi Ok Perfetto E quando sei pronto a scattare il mio 3 Prendi Ok Il cerchietto 1 2 3 Adesso cosa succede? Non mi dire che ho scattato la foto? Hai scattato la foto assolutamente Ma essendo arcaica dobbiamo aspettare qualche minuto Non so perché si sviluppi Perché c'è dentro qualcuno che sta disegnando a mano la carta? No no Solo sviluppando la fotografia Ok Ma quindi ricapitoliamo un attimo Ok Hai scelto una carta Hai esaminato il cartoncino Certo Cioè hai posto le iniziali E hai scattato la fotografia Certo Apri la scatolina Ci sono ancora le iniziali Si Prendi il cartoncino Giralo lentamente mostrandolo No Ed è proprio Il 4 di fiori Sì Ora è ancora una versione Una tecnologia primitiva Quindi le foto le scatta in bianco e nero Però insomma cercherò di aggiornarmi E la comprerò anche a quello che Grazie mille Celso Si va bene No È chiaro È chiaro che è il bianco e nero È il bianco e nero È il bianco e nero che è la Sì è una battuta c'è Ah è una battuta? Sì Questa la teniamo? Ma si tiene Ma si tiene Ma questa la teniamo È una battuta È una battuta È un bianco e nero È un bianco e nero È un bianco e nero No no non adesso Perché adesso non stavo dormendo L'ultima volta che dormivo Ho sognato Due secondi fa Perché Io ho visto che Più passano il tempo Passano i video Sì Man mano quando io ti faccio i giochi Tu Vedo sempre di più che fai Che carta è? Perché non vedo niente? È Perché molto niente sta calando La vista Sì E allora ho pensato a te Ma dai Sì guarda ho preso un mazzo di carte con L'indici molto grandi Ah ok grazie No 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 è importante Hai visto questa che carta è? Due fiori Tu ti rendi conto di Ecco Certo Allora prima cosa importante Ti ringrazio per questa carineria Prima cosa importante Guarda che Porco cane Ci si vedono benissimo Non ci sono doppio adesso Però Ok Sì Ora quello che ti chiedo di fare Si Dovina E mescolare? Si però aspetta Aspetta Fai così con la mano Fai una mescolata velocissima Ma proprio veloce Ok fermo Quindi tu Metti giù Se io Ti chiedessi Non farlo eh Ma ti chiedessi di tagliare Con che mano andresti Ok fermo Dammi la mano Ok aspetta Fermo 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 No fermo Che ci muove? Fermo fermo Aspetta Fermo No perché magari poi uno pensa che Eh no la metto Fermo Si Non te la faccio vedere Ok Qua Non so come chiudere Vabbè senti così Ok Fai vedere? Si No no va bene quello Va bene quello si? Si Adesso lo mescolare Si C'è tutta sta roba per fare il mescolare Si Mischia Si Ecco però No aspetta hai fatto cadere No aspetta No va bene va bene va bene Mescola 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 Quando vuoi ti fermi Quando vuoi ti fermi Mi sono fermato Taglia 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 Chiudi Chiudi Taglia Taglia E no perché devo capire Fermo Ok Con che mano hai tagliato Ok E adesso E' la carta che E' sempre stato isolato Si Adesso Hai mescolato Si Hai tagliato Si Liberamente Si Gira la prima carta C'è C'è quelli fiori Non mi dire che è uguale quella lì Me ne vado eh Ti giuro me ne vado Ti addormento e me ne vado Ti addormento e me ne vado Ti add... Aspetta questa è la... Vedi che sono la stessa Si Si Yes Grazie Prego Sì 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 Sì